E qui a Villarecalcati, sede della provincia di Varese, sta per concludersi la seconda tappa di un giorno molto importante per il territorio sul fronte delle infrastrutture, alla presenza di due ministri dell'attuale governo, di tanti esponenti politici, molti tecnici e soprattutto tanti sindaci. In cabina regia c'è il presidente della provincia, Marco Margarini. Alcune delle infrastrutture più attese del territorio sono sul tavolo, a cominciare dalle rotonde in fase di realizzazione sulla statale 629, la cosiddetta vergiate Besozzo. E proprio lì si è svolta la prima tappa di questa importante giornata, con il ministro delle infrastrutture Salvini e molti altri partecipanti. Le rotonde già in fase di realizzazione sono tre, a Mercallo, Vergiate, Malgesso, un tocca sana per il traffico e per la sicurezza, grazie all'eliminazione dei semafori, cui Salvini vorrebbe dire addio, insieme agli autovelox. Adesso sono ministro, ho un figlio con la patente, una figlia che l'avrà, ci tengo alla sicurezza e alla salute, quindi gli autovelox nei punti pericolosi sono importanti. Gli autovelox su stradoni larghi per fare cassa, no. Per i sindaci della zona, sul posto insieme ad altri colleghi, esponenti politici, governatore Attilio Fontana, si tratta di opere importanti, quanto attese. Era veramente, come dire, pericolosa, sono successi tanti incidenti, purtroppo anche qualche morto, e quindi noi ci aspettiamo che la viabilità migliore sia più fruibile per il turismo e per tutto quanto. Di rotonde sulla Vergiate Besozzo dovrebbero sorgere altre cinque, per un totale di otto. Senz'altro noi dal punto di vista tecnico sposiamo l'iniziativa di ampliare con altre rotatorie e sostituire gli incroci semaforizzati e puntiamo a trovare i finanziamenti. A seguire, come detto, le slide, le componenti tecniche, le tabelle, i diagrammi, tutto ciò che mette nero su bianco l'importanza delle infrastrutture più attese. C'è una grande incognita, cioè tanti sindaci da altre parti del territorio sono venuti qui al cospetto dei ministri Salvini e Giorgetti per battere cassa, per chiedere che anche le loro infrastrutture vengano garantite. Non sarà possibile accontentare tutti, evidentemente, ma se c'è un punto politico che indubbiamente è stato affermato è quello di una provincia di Varese che, nonostante sia ancora ente di secondo livello, è tornata ad essere cabina regia di primo piano. Fare delle scelte insieme al territorio, quindi insieme ai sindaci e capire quali sono le strade di maggiore importanza strategica per la provincia, questa è una scelta che non può partire dal presidente, ma deve partire dai territori. Grazie. 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 Grazie.